Continuare a dire che quelle morti sono dei numeri suona come profondamente ingiusto. Non è un numero, è una storia, è una famiglia, è una vita. È una madre che non vedrà più il figlio tornare. È un bambino che non conoscerà mai il padre. Non sono dei numerini da mettere lì a caso e dare in pasto al dibattito politico o alla rissa da talk show.